Musica Allora Davide, una bella partita alla fine, peccato per voi, naturalmente fortunatamente per noi è finita così, però si è vista una partita che, dicevo, sembravamo giocare in Serie B. Sì, la partita è stata una bella partita, abbiamo giocato bene, se avete visto non so se ne abbiamo mai fatto una parata, l'arbitro ci ha messo un po' del suo, anche lui ha ammesso l'errore, però ha condizionato la partita, però dico adesso tornare indietro non si può, c'è il rammarico e noi andiamo avanti. Senti, vogliamo mandare un saluto a una persona che per me è sempre speciale, ma pure per te, il nostro grande maestro Pippo Matè. Il grande maestro, ciao da Pippo, un abbraccio. Grazie a te. Forza Palermo, forza, corri forte e vincerai. Forza Palermo, forza, mi vede tu sarai. Crosso dalla sinistra o crossa dalla destra, lancia la palla in aria e qualcuno sa. Rosane! 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 Grazie per la visione!